Grazie Grazie Siamo qui con il professor Aldo Benedetti del docente verso la facoltà di architettura ingegneria e architettura della facoltà dell'Aquila che ci descriverà appunto il progetto di Shigeru Ban e ci dirà alcune sue impressioni e dei suoi approfondimenti a riguardo Certo, allora converrà rapidamente descrivere il progetto per individuarne contenuti ovviamente architettonici e innanzitutto spiegare che il progetto nasce nell'immediato ridosso dell'evento sismico del 6 aprile Da quel momento, allorché Shigeru Ban è arrivata all'Aquila è iniziato non solo l'individuazione del sito per localizzare il progetto che consiste nella sede del conservatorio di musica Alfredo Casella ma anche in un auditorium che sia un auditorium aperto anche alla città Dunque Shigeru Ban arriva all'Aquila e immediatamente è individuato il sito e l'opportunità di sistemare questo suo manufatto utilizzando la copertura di una struttura d'acciaio esistente che avrebbe dovuto essere il ricovero delle vetture della metropolitana di superficie una struttura ovviamente mai completata e difficile da realizzare Shigeru Ban dunque pone i primi passi ma assai rapidi per dotare di un auditorium temporaneo e del conservatorio la città dell'Aquila Ovviamente parte Shigeru Ban dal linguaggio che gli è proprio che è il linguaggio che si basa sulla tecnologia dei materiali leggeri, riciclabili, ecologici e il cartone è la sua cifra espressiva che lo rende più conosciuto nel mondo ed infatti le chiusure verticali che erano previste sotto questa grande copertura ondulata sono sostanzialmente tutte strutture di grandi pilastri cavi in cartone che sono esseri simili agli stessi pilastri da lui utilizzati in altri progetti in aree toccate da eventi di disastri naturali basta ricordare ad esempio la chiesa realizzata a Cobb subito dopo il terremoto per la comunità vietnamita che è nata per essere una struttura temporanea in realtà una volta smontata è stata donata ai vietnamiti di Taiwan è stata lì rimontata e è tuttora in piedi in analogia a questa struttura lui ne ha portate avanti tantissime altre si può dire che Shigeru Ban ogni anno è presente su un'area del pianeta toccata da disastri e dunque lui porta lì un contributo molto importante Shigeru Ban è peraltro anche il fondatore di questa rete che si chiama VAN cioè architetti volontari per l'emergenza e sulla base di questo suo spirito, di questo suo empito di natura civile e solidaristica ha portato all'Aquila la sua disponibilità assieme alla volontà del governo giapponese che intendeva donare alla città dell'Aquila una tangibile volontà della propria contributo del post-sisma dunque fin dai primi giorni di giugno Shigeru Ban comincia a pensare e a discutere col gruppo sia parigino del suo studio e sia dei suoi consulenti che all'Aquila erano rappresentati ovviamente da me come docente dell'università e inoltre anche da docenti colleghi dell'università di Genova il professor Paolo Rava in particolare e dell'università di Perugia come il professor Andrea Giannantoni che hanno formato un pool operativo che interfacciava regolarmente le proposte avanzate in ambito non solo parigino dello studio di Shigeru Ban ma di Tokyo e dunque è stato un lungo lavoro, estremamente rapido di proposte verifiche già l'impostazione generale era già chiara fin dall'inizio e tutte le successive evoluzioni si può definire un processo continuo evolutivo quindi difficile stabilire uno stacco fra una fase e l'altra però sicuramente alla fine del discorso è individuabile un processo a due o tre fasi l'ultima fase è quella che prevede la sistemazione e rilocalizzazione dei locali del conservatorio in un lato opposto a quello pensato precedentemente sotto la grande copertura che occupa un lotto ad immediato ridosso dell'autostrada dopo l'uscita del casello Aquila Ovest laddove l'autostrada si erge sopra il terreno con un miadotto in prossimità di quella zona che viene normalmente definita come il quartiere di Pettino esiste questo lotto di circa 9.000 metri quadri e il progetto di Shigeru Ban il progetto coperto occuperebbe un terzo del lotto 3.800 metri quadri circa ovviamente il progetto prevede delle strutture per la didattica dunque per aule, aule più o meno piccole aule che vanno dai 40 ai 20 posti definite secondo una L dunque due corpi a sviluppo lineare che costituiscono i margini più chiusi del lotto sotto la copertura sono peraltro due strutture costruite in legno sostanzialmente ripercorrendo anche un'altra interessantissima tecnica utilizzata da Shigeru Ban per definire le strutture degli edifici di due piani e questo è un edificio di due piani che utilizza i mobili di legno come struttura portante dell'edificio successivamente mantenendo largamente intatta la struttura di acciaio preesistente sotto la struttura di acciaio vengono inserite le attività e gli spazi che sono quelli ponderosi relativamente dell'auditorium di circa 600 posti 605 posti ovviamente l'auditorium è stato quella parte dell'edificio che ha subito qualche adattamento e dunque qualche modifica nel corso delle varie versioni non tanto nella localizzazione interna quanto in realtà per la capienza infatti la prima versione era per circa 1000 posti poi anche in rapporto alle esigenze valutate con il direttore del conservatorio Maestro Carioti si è passati dai 1600 posti ovviamente la parte spaziosa dell'auditorium con il suo foyer è totalmente indipendente rispetto alla parte della didattica tal che l'auditorium potrebbe essere utilizzato spero ancora che si possa fare verrebbe utilizzato anche indipendentemente dall'attività didattica